Grossa ingenuità, hanno concesso una punizione da posizione molto pericolosa. Sarà calcio di punizione e da qui possono far male. Una posizione pericolosa Fabio, hanno i giocatori giusti per struttarla al meglio. Sì, e ora devono cercare di prendere le distanze. Cosa ha fatto Beppe? Che gol! Si è coordinato benissimo.